Benvenuti in quel di Cremona per il trattorista dell'anno 2020 Allora, la situazione qua è freschina e stiamo andando dalla macchina per avviarci verso il Cremona Circuit dove si svolgeranno le prove e raggiungere anche tutti gli altri nostri guanti d'avventura Ecco, Massimiliano, quella morosa, Riccardo, quindi ci vediamo dopo Abbiamo appena detto che non fanno un minimo di corso speciale per i figli Quindi ho già perso, stra perso Massi, com'è andato il briefing? Benissimo, considerando che se c'era una prova che assolutamente non potevo affrontare dato che non ho mai guidato un fente è quella di aratura Allora, ecco, qual'è la prima prova? Era poco più La fortuna è sempre bella via Vai Massi, siamo contenti Allora, ecco, qual'è la prima prova? Allora, ecco, qual'è la prima prova? Ci sono stati? Wow! Dai, allora, com'è andata? Ancora? Dai, dai! È stato meno bruciante di come pensassi Non posso lamentarmi Pensavo peggio Grazie a tutti 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 3 minuti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti